Impara l'inglese con Monica è un corso che ti martella a 360 gradi. In che modo? Con metodo, supportandoti, con semplicità, con intuizione, con costanza, con stimoli, con dinamicità, potrai andare avanti ancora, 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 ancora. Ma concludo semplicemente dicendo che Monica è fantastica ed è supportata da un team d'eccellenza. Provare per credere.